Buongiorno a tutti i due atleti, ma sono stati non insieme a tutti i miei, adesso passiamo al secondo incontro, specialità Team One Center, donne questa volta, senior, tre round da due minuti, angolo crew Maria Rosiello nel team Violante Foggia. Maria Marile del team Foggia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.